Ben ritrovati a tutti da Edoardo Ferrara di Trebimeteo. Primavera decisamente capricciosa nella giornata di martedì sull'Italia, a causa di un fronte freddo che determinerà una passata di rovesce temporali da nord verso gran parte del centro-sud. Il tutto accompagnato da un calo delle temperature, tant'è che ci attendiamo il ritorno della neve sulle Alpi addirittura fin verso 1.400-1.500 metri. Ma andiamo con ordine e partiamo dalle temperature minime, che saranno in generale lieve calo, più sensibili sul comparto alpino, dove il clima sarà particolarmente frizzante al primo mattino. Per quanto invece riguarda le massime, ci attendiamo una diminuzione piuttosto sensibile al centro, in particolare sui versanti adiatici, anche sul nord-est, mentre non subiranno sostanziali variazioni sul basso versante tirrenico e sulle isole, dove farà ancora piuttosto caldo. Entriamo ora nel dettaglio previsionale, partendo dal nord Italia, che vedrà una giornata spiccatamente variabile, con sviluppo di acquazioni e temporali sparsi soprattutto nelle ore pomeridiane e che dal comparto alpino si estenderanno fin verso le pianure. Notate la quota neve fin verso i 1.800 metri nelle ore centrali del giorno, ma come vi dicevo prima, nevicherà addirittura fin verso i 1.400-1.500 metri al primo mattino. Spostiamoci ora alle regioni del centro, dove il tempo sarà spiccatamente instabile, con una passata di rovesce temporali un po' su tutti i settori, in marcia da nord-ovest verso sud-est, e localmente anche di forte intensità. Andiamo infine alle regioni meridionali, dove il tempo peggiorerà soprattutto tra Campania, Alta Lucania, Puglia e Molise, con rischio di qualche acquazzone temporale, anche di forte intensità verso le ore serali. Maggiori schiarite invece favoriranno il Salento, ma soprattutto la Calabria e la Sicilia, dove il tempo si manterrà più asciutto. Il sole non dovrebbe proprio mancare infine anche sulla Sardegna, con a più qualche sporadico rovescio a ridosso dei rilievi e sui settori orientali. Bene, per adesso mi fermo qui e per tutti gli aggiornamenti in tempo reale vi invito a consultare il sito travimento.com.